Abbiamo in questa pista un carosello di Giovanni Amatovici rappresentato dal centro di piccola quadra ecco a voi il carosello delle sirene come diceva Riccardo è il carosello delle sirene del centro di piccola quadra che nasce a Sacrofano, questa volta che è un'altra ed è di proiettare il sangue Rosario e Arianna Bonanno soci e contatori dell'accademia del teatro e questo questo mondo nasce dalla voce e viene del gesto che montano a cavalli con lo sangueati normalmente nella disciplina dell'edrezza grazie a tutti 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 grazie a tutti